Hi-Hat, Hi-Hat, Hi-Ear non sono i tre hobby di Fantozzi ma il line-up invernale di Hi-Fun sono per la precisione due cappellini e paraorecchie dotati di cuffie e attacco jack che permettono di proteggersi dai rigori dell'inverno e allo stesso tempo di ascoltare la musica che più ci piace da iPhone, iPod o un altro lettore musicale le cuffie si nascondono nel caso dei cappellini nei risvolti nel caso della ear nella zona che copre l'orecchio qua, in questo punto tutti e tre i prodotti hanno in dotazione un cavo standard con attacco jack da collegare al cappello o al paraorecchie e altro attacco jack da collegare all'iPhone o all'iPod o al lettore musicale clip per agganciare il cavo ai vestiti controlli sul cavo per il volume per la riproduzione con il pulsantino e anche un microfono per utilizzare i-head, i-head o i-ear come auricolari i-head è il cappellino un po' più sportivo i-head è quello un po' più elegante con le coste e il risvolto i-ear il paraorecchie che è disponibile in tantissime colorazioni e che a differenza degli altri due prodotti è forse quello un po' più femminile visto proprio il tipo di prodotto e la presenza di questo pelo per fortuna sintetico che è forse più adatto a una ragazza tutti e tre i prodotti si trovano nei negozi o online ad esempio su Gadget Vivo vi dico i prezzi i-head 29,90, i-head 39,90, i-ear 29,90 quindi diciamo che stanno tranquillamente in un budget medio-basso e sono tutti e tre un'ottima idea da far trovare a qualcuno sotto l'albero grazie a tutti